I vecchi, plasticosi, pesantosi, piccicchi, Windows da me soprannominati, cazzoni, beh, non hanno più senso e ha senso, non ha senso, e ha senso passare a un buon senso piccimo, piccimo, piccimo. E prima di tutto vi racconto del design, oh eh, delle, eh, oh eh, del pene, mamma quanto si è abbassato. Scherzi a parte, guardate che varietà di forfaccafrof qua 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 sul lustrino numerico integrato nel trackpad genialata, oppure i pc moderni possono trasformarsi e da, diciamo, laptop tradizionali diventare dei taffoli, eh, eh, molto più leggeri, molto più leggeri, mom, i regni.